Rimesso in libertà uno dei cinque giovani arrestati con l'accusa di essere stati gli autori di una serie di rapine e di violenze contro gli omosessuali nella zona industriale di Vittoria. Il Tribunale ha accolto la richiesta di revoca della misura cautelare sulla base degli sviluppi investigativi dai quali è emerso che l'indagato aveva avuto un ruolo marginale ed amero spettatore delle violenze, così come confermato da una delle vittime. Salvatore Di Dio, ha 22 anni, nato a Caltagirone, ma è residente ad Acate. Era stato arrestato a settembre 2018 insieme ad un minore. E il mese precedente altri tre giovani, tra cui un altro minore, erano stati arrestati come componenti di questa banda che rapinava, malmenava e si abbandonava ad ogni genere di violenza, anche con catene nei confronti di omosessuali addescati nell'area industriale di Vittoria. Due dei cinque hanno scelto il rito abbreviato, per altri tre, udienza il 7 giugno prossimo. Decisivo l'interrogatorio di una delle vittime è proprio in relazione ad uno degli episodi che chiamano in causa di Dio, il quale non avrebbe posto in essere alcuna condotta di addescamento sessuale, nessun allettamento, nessun invito esplicito dalla parte offesa. E inoltre non sarebbe mai intervenuto, mentre gli altri davano vita a quell'incredibile esplosione di violenza che ha suscitato clamore e indignazione. La banda, una baby gang a tutti gli effetti, visto che due erano minori e gli altri poco più che ventenni, colpiva i giovani omosessuali in un parcheggio della zona industriale di Vittoria. Fingendosi partner occasionali, i cinque attiravano le vittime in luoghi appartati e a volto scoperto, con l'aiuto di complici, le malmenavano e derubavano di ogni cosa. Denaro, cellulari, tablet e orologi, accompagnando le violenze con frasi e insulti estremi contro gli omosessuali. Numerose le rapine contestate. Numerose le rapine contestate.